Musica Tre spettatori ben ritrovati con l'informazione di Terediogene. Secondo i programmi, ad oggi doveva essere già operativo e a regime da diverso tempo, il mercato ubicato in piazzale Nettuno a Crutone, ma così non è. Abbiamo cercato di capirne il motivo. Nato sotto una cattiva stella, sembra davvero la tela di Penelope. Stiamo parlando di quest'area mercatale che dovrebbe accogliere i box via Generale Tellino, le bancarelle. Sono anni che sono iniziati i lavori di costruzione di questi box da assegnare agli esercenti di via Generale Tellini e i lavori proseguono, poi si fermano, poi vanno avanti. Adesso manca solo la copertura per questi box. All'altro lato c'è la copertura, da questo lato si stava costruendo. Sono stati bloccati i lavori perché facendo lo scavo per fare il ripiano dove mettere, dove poi attaccare la copertura, il palo per la copertura, sono stati trovati resti industriali, veleni industriali per capirci. Bene, il Comune ha seguito la pratica e riuscito a risolverlo perché c'era il problema dove andarlo a smaltire. La questione è stata ripanata, quindi riparte? No. Perché non riparte? Cosa c'è di nuovo? C'è di nuovo che la ditta che sta eseguendo i lavori, secondo quanto riferito dall'assessore all'urbanistica del Comune di Crotone, è in difficoltà economica. che sta cercando un concordato per uscire dalla crisi e la cosa migliore sarebbe se accettasse l'idea di rescindere il contratto. Se la ditta stessa si proponesse di rescindere il contratto, cosa che sicuramente non farà. e allora bisogna andare a un'avvertenza legale per la rescissione del contratto. Ci vorrà ancora tempo. Ci vorrà tempo e, come vedete, la situazione è abbastanza degradata e destinata a degradarsi ancora di più perché il tempo, quando non ci sono interventi umani, quando si costruiscono manufatti e non ci sono interventi umani, purtroppo i manufatti si degradano. Questa è una questione. quest'altra invece, quella che vedete, questa iuola non c'entra con l'area mercatale e è stata abbandonata in questa situazione di grandissimo degrado. Siamo all'entrata della città e qui bisogna forse aspettare la festa della Madonna quando ci saranno le bancarelle per vederla pulita. Anche lì l'altra rotatoria ogni tanto viene fatta e poi viene completamente abbandonata. La situazione a Croton è questa. Chi arriva in città, il primo impatto ce l'ha con queste situazioni. All'entusiasmo per la posa della prima pietra del cantiere antica Croton si contrappone la denuncia di chi solleva dubbi e perplessità sui tempi di esecuzione. Sentiamo. Si parte il progetto dell'antica Croton. Lei l'ha fatto il biglietto per il treno? Ma non ho trovato il bigliettaio veramente. Non c'è il bigliettaio quindi? Non so se si parte veramente. Io auspico che veramente si parte veramente. però ho dei dubbi su una situazione che non è molto chiara. Questa è la verità. Perché d'altra parte si inaugura un cantiere però ancora non si è formato il personale per fare i lavori. quindi io vorrei consigliare. Il corso di formazione si farà perché i soldi ci sono, c'è il decreto, la provincia ha svolto bene il proprio compito, i corsi di formazione ci saranno. Era consigliabile secondo me inaugurare il cantiere quando erano formati gli operatori e poi si inaugurava il cantiere. Qui partiamo come al solito. Ma siamo sicuri che quei lavoratori saranno chiamati a lavorare lì? Io spero di sì perché d'altra parte buggerare queste povere persone sarebbe un peccato mortale per la politica, un po' per tutti quanti. Io spero che Scoperliti opri in modo concreto e serio. Anzi vorrei consigliare a lui di, oltre se è vero quello che abbiamo i fondi per fare i lavori, che si formassero subito. I fondi sono europei, sono i fondi per il sud che il governo nazionale ha destinato 100 milioni per questa attività. Sono diventati 65, però il discorso era questo. Si doveva formare il personale e poi iniziare i lavori, e poi mettere la prima pietra, scavare la prima pietra, è la stessa cosa. Meglio scavarla che mettere una pietra in più. Secondo me sì, dal momento che si parla di scave. Io spero che poi Scoperliti pensi anche a riprogrammare i fondi europei per dare sollievo veramente all'occupazione. Perché in questo momento c'è bisogno veramente che si dia qualche posto di lavoro ai tanti nostri giovani, questa è la verità. Lei il miglietto l'ha fatto? Secondo me non si parte, e se si parte, quando si parte, il treno parte senza qualche vagone. La stazione non ce l'abbiamo più. Perché? Perché questo era un finanziamento di 100 milioni di euro che veniva dal Ministero e questo finanziamento è stato decurtato di 35 milioni di euro da parte della Regione Calabria. La Regione dovrebbe spiegarci perché ha fatto questa decurtazione e se l'ha fatta pure alle altre province. Perché Crotone deve sempre subire? Ma quello che mi meraviglia è che nessuno parla di questa cosa. Eppure per la prima volta a Crotone abbiamo tre assessori regionali con un vicepresidente. Ritornando alla partenza, se si parte o non si parte, io già glielo dicevo l'altra volta, la situazione è molto ingarbugliata. Carnevale è passato, ma a Crotone ancora esiste perché hanno fatto un'inaugurazione senza che, e hanno inaugurato solo una recinzione, una recinzione che bisogna fare mentre gli operai ancora debbono essere formati perché ci vogliono minimo quattro mesi per formare perché debbono fare un mese all'interno e tre mesi all'esterno. Quindi mi debbono dire quando iniziano questi lavori e perché hanno fatto un'inaugurazione oggi buttando ancora fumo negli occhi dei poveri lavoratori, del povero territorio di Crotone e nessuno parla. Allora Schivino, se lei il biglietto non l'ha fatto sicuramente. Il biglietto su un'indicazione di Scopelliti, francamente mi pare che il metodo Scopelliti ha fallito in Calabria, Reggio e per la verità anche qua. Noi siamo esterefatti. Prima ci portavamo via 35 milioni dei cento somme finalizzate con il Piano del Sud che riguardavano l'area dell'antica Crotone con un pretesto da noi verificato fallace che avrebbe dovuto prendere altre risorse alle altre realtà provinciali per l'emergenza, trasporti e sanità. Non ci risulta che questo sia avvenuto ma ci risulta che solo i nostri fondi sono stati quasi dimezzati. Ora viene e fa questa apertura del cantiere in maniera di tutta anomala. Si ha l'impressione di uno che con la valice che sta per abbandonare la regione e che voleva fare un'altra delle sue iniziative propagandistiche. Noi ci auguriamo di no nell'interesse della nostra città e dei cittadini che sono coinvolti, 630 o circa persone, sono coinvolti in questi corsi. La cosa anomala è il meccanismo. Lui avrebbe dovuto fare chiarezza. Non mi pare che ci siano i progetti già pronti per essere realizzati. Il sindaco mi pare che proprio la sua emettente ha dichiarato che non conosce i progetti. A meno che non sono in qualche stanza di qualche assessorato o di scopelliti ma non è così. Ci devono essere il coinvolgimento da parte degli enti che sono coinvolti direttamente come comune. Sarebbe assurdo che all'ultimo minuto riesci a fare qualche progetto con chi ha discusso. Il giorno della posa della prima pietra non c'era nemmeno l'assessore all'ambiente. Si fa un intervento su questioni ambientali e non c'era. Persone molto vicine all'assessore mi hanno riferito che non c'era perché è stato invitato con un sms quindi non è stato coinvolto nell'inaugurazione. Anche queste cose ci preoccupano perché evidentemente non c'è un indirizzo comune per quanto riguarda la rappresentanza nell'esecutivo regionale da parte della nostra rappresentanza provinciale. Allora ci chiediamo perché non dire con esattezza anche tutta la vicenda che riguarda i corsi. I corsi si fanno perché è stato giustamente approntato da parte della provincia e dagli uffici. Pietro Durante. Pietro Durante. E' uno che ci crede. E' un competente, è uno che è impegnato a portare avanti questo lavoro per diverse occasioni. Lui è stato il primo a realizzare una serie di interventi anche per tutta la situazione sociale molto delicata della nostra provincia per quanto riguarda altri interventi. Ma dico non c'è chiarezza che la regione è pronta per finanziare questi corsi. Ci sono i soldi, questi verranno pagati. I soldi ci sono ma i tempi... Ma i tempi, ma io comincio ad avere dei problemi. I tempi sono collegati anche alla volontà di mantenere un impegno perché poi questi cominciano ad andare avanti e si apre anche una discussione perché questi vogliono pagati. Non mi pare che così sia il modo di governare una regione. Si fanno prima gli atti deliberativi, i primi progetti e poi si fanno le altre cose. In questo si fa esattamente all'opposto. Allora quindi che vuol dire? A fretta, a fretta e scopallite. Ma noi abbiamo più fretta perché c'è la situazione economica, sociale veramente drammatica. Ci hanno fatto fare il biglietto del treno ma il treno non c'è. Ma lui parte. Ma lui parte per altra destinazione probabilmente. Rafforzare i presidi di sicurezza presenti nella città di Crutone per porre fine alla violenza e agli atti intimidatori che si stanno registrando negli ultimi giorni. Basti pensare che solo nella notte tra domenica e lunedì 10 marzo sono stati incendiati tre automobili e un autocarro, quest'ultimo di proprietà del figlio di un testimone di giustizia. E quanto chiede l'onorevole calabrese della PD Nicodemo Oliverio all'amministro dell'interno Angelino Alfano dopo i numerosi episodi che hanno visto coinvolte sedi di associazioni, strutture turistiche, professionali e operatori commerciali. A Crutone c'è una strana tendenza, quella di fare e disfare dei lavori. Siamo in largo lavatoio. Vediamo cosa è successo. Guardi che mai, dice un vecchio proverbio, però non quando vengono sperperati i soldi dei cittadini, dei cittadini crotonesi che già non ne abbiamo. Allora, siamo nella zona del largo lavatoio, nel monumento denominato il Pantarei. Questo qui è un bel viaggio. Finalmente, dopo mesi che la fogna usciva dalle case intorno alla cinta muraria che sono state costruite sulla cinta muraria del castello, stanno rifacendo le fogne, perché le fogne sgorgavano in questo spazio che doveva essere una passeggiata per i turisti. E allora, stamattina sono arrivati i lavoratori della Soacro e stanno facendo finalmente questo lavoro, quindi meglio tardi che mai. Però, dicevo prima, chi ha fatto il progetto, chi ha realizzato questo progetto, doveva sapere che sotto il manto che stavano costruendo, le aiuole che stavano costruendo, c'erano le fogne. C'erano le fogne e quindi bisognava prima lasciare le fogne. Adesso i giardinetti sono stati completamente devastati, non è che fossero stati curati particolarmente, ma sono stati devastati. Bisogna spendere altri soldi, quindi soldi che sono stati spetti per realizzare il progetto, soldi per scavare, soldi per rimettere di nuovo le cose come stavano. Addirittura avrebbero dovuto fare anche un'altra cosa, visto che hanno fatto un progetto di riqualificazione in Piazza Castello. Perché queste case che sono la cinta muraria non ne hanno allacciate, non hanno fatto il sistema fognario allacciarlo ai lavori che hanno fatto a Piazza Castello? Siamo a Crotone, le cose si fanno così. Tanto a pagare sono i cittadini. Panterei va benissimo, ma mai nessuno che è al posto del Panterei, che significa tutto scorre, applica invece il detto raziano Carpe Diem, cogli l'attimo, ci cogli l'attimo. Quando le cose vanno fatte, vanno fatte in quell'attimo e non dopo. La squadra mobile di Crotone ha arrestato Nicola Lentini, 27 anni, di Cariati, ritenuto esponente di spicco della coscarena di Isola Caporizzuto. è condannato a 13 anni di reclusione con sentenza passata in giudicato il 27 febbraio scorso nel processo denominato Pandora. L'inchiesta, nata dopo l'omicidio di Pasquale Tipaldi, ha riguardato lo scontro tra le cosche Arena e Nicoscia. Lentini è stato condannato per il tentato omicidio di Vincenzo Riillo, avvenuto nel 2006. E quattro lidi balneari e un'abitazione privata realizzati abusivamente sul demanio marittimo sono stati sequestrati a strongoli marina dai carabinieri e dai finanzieri della sezione navale. I proprietari degli immobili sono tutti accusati di occupazione abusiva e deturpamento di bellezze naturali. Sanzioni amministrative sono state combinate ai proprietari di due chioschi che hanno liberato l'area del maniale in ritardo rispetto ai tempi della concessione. Nella notte, tra lunedì e martedì, i vigili del fuoco del distaccamento di Petile a Policastro sono intervenuti nel comune di Cotronei, in piazza Pebiscito, per l'incendio di un'abitazione. Estinto l'incendio, i vigili intervenuti si sono trovati il corpo di un uomo di 55 anni di nazionalità polacca carbonizzato. Sono in corso gli accertamenti del caso. Erano presenti sul posto i carabinieri di Cotronei. Danni per 80 milioni di euro sono quelli che il governatore della Calabria, Beppe Scopelliti, dovrebbe pagare in caso di condanna al comune di Reggio Calabria nell'ambito del processo Fallara che si dovrebbe concludere da pochissimi giorni. Il comune di Reggio presenta il conto a Scopelliti per il caso Fallara. Danni per 80 milioni di euro. è quello che leggiamo dal quotidiano della Calabria. Che cosa scrive Caterina Tripode, la giornalista del quotidiano della Calabria? Che è stata presentata agli atti il conto che il governatore rischia di pagare in caso di condanna nel processo che ruota intorno al funzionale del comune deceduta. Cioè Fallara, ve lo ricordiamo, era una dirigente del comune di Reggio Calabria che si è suicidata. Lei si era appropriato di alcune cifre e aveva in qualche modo manomesso i conti del comune. Come si è difeso Scopelliti nel procedimento a suo carico? Ha detto che lui firmava senza leggere e c'era una fiducia con questa dirigente del comune, con Fallara e quindi lui firmava le carte senza leggerle. E la cifra è di molto superiore a quelle ipotizzate inizialmente. Il processo dovrebbe concludersi giovedì. Dopodomani stiamo parlando. Il processo, la sentenza, domani si riapre il dibattimento, domani mattina e entro giovedì potrebbe esserci la sentenza. Potrebbe già esserci la sentenza. Se dovesse essere negativo, secondo quello che è stato depositato agli atti, se dovesse essere negativo nei confronti di Scopelliti, Scopelliti sarà condannato e quindi rischia di decadere dall'incarico di Presidente e decadere no, sarà sospeso per 18 mesi perché siamo nel primo grado di giudizio e sarà condannato oltre agli anni di carcere dalla sospensione dei pubblici uffici, c'è il rischio che venga condannato al risarcimento di 80 milioni di euro e non di un milione come era stato ipotizzato in un primo momento. Quindi Scopelliti deve pregare davvero il Padre Eterno perché questo processo si concluda felicemente. Siamo al primo grado di giudizio, ovviamente, le cose poi per essere definitivi dovremmo aspettare il terzo grado di giudizio. Invece per quanto riguarda la sospensione dall'incarico di Presidente della Giunta regionale partirebbe subito, 18 mesi, perché questo prevede la legge italiana in caso di condanne per reati consumati nei confronti della pubblica amministrazione, si decade se si ha una condanna superiore a due anni, non si decade, scusate, ho sbagliato, viene sospeso. Poi quando la condanna diventa definitiva nel terzo grado di giudizio, chi è condannato a decade? Ma non sarà il caso del Presidente della Giunta regionale, almeno per questa legislatura, perché si voterà molto prima dei 18 mesi e se dovesse essere condannato difficilmente si ricandiderà alla carica di Presidente. Casomai si potrà ricandidare al Consiglio europeo. Lì non vale la legge Severino, lì ci sono altre normative. Per non potersi candidare all'europeo, per non poter svolgere il ruolo di parlamentare europeo, c'è bisogno del terzo grado di giudizio. La Giunta regionale, si legge in una nota dell'ufficio stampa, ha deliberato la rimodulazione di un programma operativo in materia di edilizia sociale, attraverso la quale ha previsto, tra le altre cose, una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per la costituzione di un fondo di garanzia finalizzato a sostenere la contrazione di mutui per l'acquisto della prima casa, utilizzabile sia da imprese cooperative di abitazione, beneficiari di contributi per le fasi costruttive di cantiere, che dagli acquirenti o dagli assegnatari finali per l'acquisto delle unità abitative. A proposito di case a Crotone, 24 abitazioni di edilizia popolare pubblica sono pronte da due anni per essere consegnate, ma sono ancora disabitate. Perché? Tutte le mattine e per l'intera mattinata, decine e decine di persone stazionano in piazza della resistenza nello spazio antistante l'entrata principale del comune. Perché stanno qui? Perché chiedono qualcosa? E che cosa chiedono? Chiedono lavoro, chiedono contributi economici, le famiglie più in difficoltà, c'è gente che non può pagare la corrente elettrica, che non può pagare la bolletta dell'acqua, quindi la luce, e quindi chiedono soldi per poter mangiare alcuni, perché c'è gente anche che non ha i soldi per mangiare. C'è gente anche che chiede a casa. Il comune quale risposte può dare? Il lavoro non ha gli strumenti per creare lavoro. Forse qualcosina la sta facendo per dare ristoro qualche mese ai disoccupati, destinando 400 mila euro dei fondi della trattativa Colleni ad un progetto e altri 400 mila euro di mettere alla regione. Più di questo non riusciamo a capire che cosa possa fare. Certo potrebbe fare progetti per finanziamenti europei, sottoporli alla regione, ma questa è un'altra cosa. Direttamente in questo momento può fare, più di questo non può fare. Sui contributi, in parte forse qualche aiuto lo ha dato, ma soldi per dare contributi né il comune di Crotone né altri ne hanno. La casa. L'altra domanda molto seria, l'altra richiesta molto seria che viene avanzata è quella della casa. In questo caso il comune qualche risposta in più la può dare. Sono circa due anni che sono state ultimate 24 palazzine di edilizia popolare di proprietà del comune. Una 12 a farina, l'abbiamo visto molte volte sono state prese da sedi, sono state vandalizzate pure, all'interno sono state rubate le mattonelle, tutto quello che si poteva rubare alle porte. E l'altra sulla 106 all'altezza di Columbra, della discarica di Columbra, all'altezza di quella zona, in quella zona. Sono 12 e 12, 24 palazzine finiti da circa due anni e non vengono date. Beh, perché? Abbiamo cercato di capire perché non vengono date. Perché le procedure sono lunghe, la burocrazia insomma. Le procedure per assegnare queste case sono lunghissime. C'è una graduatoria provvisoria, bisogna fare prima le domande, il BAN, le graduatorie provvisorie, poi dopo le graduatorie provvisorie si aspettano i ricorsi, si esaminano i ricorsi e c'è la graduatoria definitiva. E solo dopo la graduatoria definitiva ci può essere l'assegnazione. La graduatoria definitiva è stata già fatta, è stata già fatta. E dalle notizie che abbiamo noi, la Giunta ha preso l'impegno a procedere con l'assegnazione. Ma due anni sono troppi. Due anni in una città dove c'è molta gente che non ha casa. C'è proprio lì un ragazzo che vive con la sua famiglia in uno scantinato e che sta protestando diversi giorni, in una città dove c'è anche questo problema serio della casa. I più poveri, la gente che riceve lo sfratto, che viene sfrattata. Due anni per consegnare case finite sono onestamente troppe. Bisognerebbe dare un'accelerata a queste procedure. E almeno quelle risposte che possono essere date vanno date. E in tempi celeri. Si è costituito il 4 marzo scorso, nell'auditorio Giovanni Paolo II di Petilia Policastro, il Comitato Civico di Petilia Policastro. Nella stessa serata il gruppo costituente ha eletto gli organismi del Comitato e Presidente è stata eletta Catina Carvelli. Gli obiettivi del Comitato sono quelli di ascoltare, promuovere, sostenere le istanze dei cittadini, collaborare con gli enti pubblici e privati per migliorare i servizi, salvaguardare l'integrità ambientale, nel patrimonio storico, artistico e culturale. La Proloco di Strongoli comunica che nell'ambito delle attività di promozione e valorizzazione culturale e turistica del territorio sta organizzando una mostra fotografica sulla processione del Venerdì Santo e dei sepolcri e chiede a tutti coloro che sono in possesso di antiche foto sulla processione del Venerdì Santo di contattarli per poter contribuire all'evento. Le foto dovranno essere consegnate alla Proloco entro lunedì 17 marzo. A Crea il Presidente Salvatore Lucà annuncia di volersi dimettere dall'incarico. Sentiamo perché. Se entro il 7 di marzo il Comune di Crotone non verserà le somme che la Crea avanza per le proprie attività trarrò le conseguenze. Questo aveva scritto in una lettera inviata al Sindaco di Crotone il Peppino Vallone e al Direttore amministrativo del Comune di Crotone dottore Villone l'aveva scritto il Presidente della Crea Salvatore Lucà. Salvatore Lucà l'abbiamo sentito e ci ha detto che lunedì stante la situazione perché i soldi non sono arrivati la Crea per poter svolgere la propria attività in città ha bisogno dei soldi che secondo quello che ci ha riferito Lucà sono complessivamente un milione e mezzo di euro e quindi non potendo svolgere nessuna attività non vede per quale ragione dovrebbe continuare a stare lì alla presidenza della società. Quindi se entro lunedì le cose non saranno messe in caro lunedì stesso la segnerà la demissione dall'incarico. L'assessore alla viabilità del Comune di Crotone Mario Megna rende noto che è stato pubblicato l'avviso pubblico rivolto a operatori interessati a manifestare la propria disponibilità ad assumere in affidamento il servizio di rimozione dei veicoli in sosta vietate della successiva custodia. L'assessore Megna evidenzia che il Comune intende dotarsi di una convenzione con una ditta specializzata per lo spostamento dei veicoli a richiesta del corpo di polizia perché eventualmente parcheggiati in posizione di intralcio alla circolazione o in zone vietate per motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità. Tra le scopo è stato pubblicato sul sito del Comune di Crotone all'albo operatorio un avviso preinformativo. Il Consiglio Provinciale di Crotone preseduto da Benedetto Proto è stato convocato per domani mercoledì 12 marzo alle 9.30 in seduta di prima convocazione e in seconda convocazione giovedì alle 10 presso l'auditorium dell'Istituto Pertini di Crotone. Avisiamo i nostri telespettatori che la rubrica Pelo e Contropelo ideata e condotta da Monsignor Pino Covelli dopo due settimane di assenza tornerà nella nostra consueta programmazione la prossima settimana. Vediamo il tempo previsto per domani su Crotone e Provincio si prospetta parzialmente nuvoloso visibilità ottima e vento di 10 nodi 13 gradi la temperatura massima prevista nella città capoluogo 6 gradi la minima ed ora il bollettino nautico del Marrionio tempo vento da nord a forza 5 isolati temporali in attenuazione visibilità discreta maremossi in aumento tendenza vento da nord a forza 6 isolati temporali. Bene per me è tutto io però vi lascio con un ultimo servizio dedicato al concerto tenuto a Crotone gratuitamente da Povia contro il femminicidio. Grazie per l'attenzione e arrivederci alle prossime edizioni. Sono onorato di risalire su questo palco del Teatro Apollo in pochissimo breve tempo dopo essere stata al fianco dell'iniziativa Associazione Libere Donne che è stata un'iniziativa di grande spessore culturale e soprattutto sociale ma stasera la provincia di Crotone di nuovo è voluto essere al fianco a un altro grande progetto portato avanti dal dottore Nigro, dal lavoro e quel far da Libere Donne ma probabilmente da tutta la città di Crotone dalla provincia di Crotone che vuole dare un ulteriore segno di grande crescita verso un problema sociale, civile che appunto stasera ricordiamo è il femminicidio. Non è un evento occasionale nel quale si parla di femminicidio, ne stiamo parlando da quando sono assessore alla provincia e le più importanti iniziative che abbiamo voluto coinvolgere l'istituzione e le associazioni sono proprio nel grande messaggio di quello che deve essere la crescita sociale di questo territorio verso queste problematiche. Una serata fatta con il cantante Povio organizzata dall'Associazione Lavori e Welfare della persona del dottore Nigro in collaborazione per quanto riguarda il nostro umile contributo di Libere Donne. Libere Donne perché viene scelta perché sul territorio appoggia le tematiche sulla violenza che si batte per questo, sulla pedofilia e sulla prostituzione minorile. Abbiamo aderito perché vorremmo tanto fare questo dibattito con lui sperando che arrivino tanti giovani e con i nostri giovani, i giovani del nostro territorio che aspettano tante risposte. Come abbiamo dimostrato in questi giorni con il nostro contarino, questo gruppo di giovani che dà una mano a Libere Donne, che sta cercando di creare questi contatti dove i giovani con questo nuovo canale parlano con noi, si apre un nuovo scenario, i giovani cominciano a fare delle domande, ne vogliono fare volontariato, si avvicinano alle associazioni che comunque sono presenti sul territorio. Quindi disagio giovanile, povia, musica, spettacolo, arte, tutte le forme vanno bene per dare comunque un contributo e chi stasera è rimasto a casa purtroppo questo mi dispiace perché stare a casa sicuramente non è sinonimo di cultura, non aiuta né la propria persona, né la società, né le associazioni che lavorano in maniera continua sul territorio e comunque non si impara niente, non si danno dei messaggi positivi. È un cantante al di fuori del cliché che è quello del cantante italiano, lui stesso ha affermato di non scrivere canizoni d'amore. Tutto bene, come hanno detto appunto all'inizio le introduzioni, questa è una serata cantautorale, si inserita in un concerto di canzoni sociali d'amore, la serata come hanno detto ancora è una serata contro il femminicidio, contro la violenza sulle donne, soprattutto la violenza psicologica oltre che fisica, contro le violenze, poi soprattutto le violenze psicologiche oltre che fisiche, il fatto che i bambini magari vedano i genitori che litigano in un periodo in cui magari l'Italia non va bene perché l'economia è quella che è, la gente non arriva a fine mese quindi c'è l'ansia, i soldi non bastano, i genitori sono sempre fuori casa quindi magari si crea stress e nervosismo, i bambini magari assistono anche a questi litigi tra mamma e figlio e poi crescono riproducendo i genitori, quindi rifacendo poi le stesse cose dei genitori, parlarne già è un buon modo per riuscire a sensibilizzare la gente anche se purtroppo il vero problema è sempre l'economia perché senza un'Italia che va bene in economia credo che la gente stia passando il solco della disperazione. Le bambole che vedete qui a fianco vengono fatte e prodotte appunto da tutte quelle donne che hanno subito delle violenze, lo fanno per riequilibrare, riedificare, ritrovare una propria dignità che magari poteva essere scesa a zero. Ecco siamo tutti dei pedoni nella vita, siamo tutti buoni a nulla ma soprattutto siamo tutti buoni a tutto e quindi non ci spaventiamo se magari stiamo provando un disagio o non ci sentiamo all'altezza delle situazioni perché la vita è come una partita a scacchi, si parte essendo dei pedoni e poi possiamo dare anche dei buon scacco matto alle persone. C'è stato un tempo in cui non tenevo a freno la diffidenza mia nel genere umano è stato un tempo sì sporco ma pulito però quel tempo lì non è mai finito ed ogni nuova storia che scoprivo mi ricordava sempre che ero vivo vivevo di entusiasmi e rivolte e le cazzate quelle ancora molte e ora mi muovo sopra il mondo come su una scacchiera come un pedone su una casella bianca e una nera come una torre che si arrocca sempre in laterale come un alfiere che ti fotte sempre in diagonale e questo grande amore che vivo chissà se grande amore quello vero in cui io sono il re e lei regina su due cavalli che si muovono a L insieme ma non puoi sempre solo andare avanti e non puoi comandarli sentimenti perché il tuo mondo dentro è troppo vario restare soli a volte è necessario lo scacco matto è sempre una conquista per ogni attacco c'è la mossa giusta per questo devo avere mille occhi perché la vita appunto è una partita a scacchi mi metto in gioco e punto e punto e punto alla vittoria e se poi perdo allora 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 cambio aria perché non posso sempre sempre solo andare avanti perché non posso sempre comandare i sentimenti per questo devo avere mille occhi perché la vita è una partita a scacchi ma non mi pento più di quel che ho fatto anche un pedone si perché anche un pedone può dare scacco matto può dare scacco matto è una partita a scacchi ma non mi pento è una partita a scacchi ma non mi pento è una partita a scacchi ma non mi pento è una partita a scacchi ma non mi pento è una partita a scacchi ma non mi pento è una partita a scacchi ma non mi pento è una partita a scacchi ma non mi pento è una partita a scacchi ma non mi pento è una partita a scacchi ma non mi pento è una partita a scacchi ma non mi pento è una partita a scacchi ma non mi pento è una partita a scacchi ma non mi pento è una partita a scacchi ma non mi pento è una partita a scacchi ma non mi pento è una partita a scacchi ma non mi pento è una partita a scacchi ma non mi pento ma mi hanno fatto rimanere male, così ho scritto una canzone sull'amicizia. Le canzoni danno qualcosa? La musica sì, la musica non è vero che non cambia il mondo, io sono cresciuto con tanti cantautori, con le canzoni miglioravo, cercavo attraverso le canzoni di migliorare anche altre persone, è chiaro, se ci fossero le risoluzioni dei problemi nelle canzoni, basterebbe scrivere una canzone per ogni problema e finirebbero le tragedie del mondo, però credo che la musica abbia una magia differente, anche nelle scuole, è un giro che sto facendo, che si chiama scuole medie in tour, scuole superiori in tour con Povia, attraverso le canzoni le cose arrivano in modo più diretto, meglio che quando te le dice il professore, naturalmente il professore fa il professore, quindi dice delle cose giuste, però te le dice tutti i giorni, arriva magari un giorno un cantante, te le dice cantando, ti porta anche qualcosa di diverso. Ma come infatti tu hai incominciato con i bambini fanno? Bambini fanno più che altro per sensibilizzare la ricerca soprattutto sulle malattie gravi infantili e poi anche per una cosa mia personale, un periodo che io non ho passato nella mia vita in modo florido e tra una grossa depressione in cui soffrivo di attacchi di panico eccetera eccetera, sono riuscito ad autocurarmi attraverso uno strumento importantissimo che è la musica e questa canzone poi. Le piace scrivere le canzoni dei bambini? Eh beh sì. E per i bambini? Sì perché i ragazzi giovani, perché i bambini del 2005 adesso hanno 18 anni, vengono ai concerti, qualcuno ha preso la patente, si formano dei gruppi, vedi che c'è una crescita, un fermento e poi ti rendi conto che i ragazzi ascoltano mentre i grandi giudicano prima. Quando ridono le signore vuol dire che sto andando bene? Ridete, ridete? Vorrei avere il becco. Che bastardi, lo sapevo, lo sapevo. A parte che quella è una quaglia presa da dietro, in meno pausa, col ciclo. L'artista si deve esprimere però eh. Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole, concentrato e molto attento, si va con la testa tra le nuvole. Capire i sentimenti, quando nascono e quando muoiono, perciò vorrei avere i sensi. Per sentire il pericolo, se tutti quanti lo sanno, ma hanno paura che l'amore è un inganno. Oh, ce l'ha fatta mia nonna, per 50 anni, col mio nonno in campagna. Più o meno come fa un piccione, lo so che è brutto il paragone, però vivrei con l'emozione, di dare fiducia a chi mi tira il pane. Più o meno come fa un piccione, l'amore è sopra il corvicione. Ti starei vicino nei momenti di crisi, è lontano quando me lo chiedi, dimmi che ci credi e che ti fidi. Un giorno avevo il vento, che mi accompagnava su una tegola, a volte so, non solo mi spavento. Cosa ci fanno due piccioni in una favola, se tutti quanti lo sanno, ma hanno paura che l'amore è un inganno. Oh, me l'ha detto mia nonna, sai quante volte non pensavo a tuo nonno. Più o meno come fa un piccione, e mica come le persone, che a causa di particolari, mandano per aria sogni e grandi amori. Camminerò come un piccione, a piedi nudi sull'asfalto, chi guida crede che mi mette sotto, ma io con un salto, all'ultimo momento. volerò, volerò, ma non troppo in alto, perché il segreto è volare basso. E un piccione vola basso, ma è per questo che ti fa un dispetto, ma è per questo che anche io non lo sopporto. Non lo sopporto. E noi però alla fine resteremo insieme, insieme a me, più o meno come fa un... L'amore è sopra il corvicione, ti starei vicino nei momenti di crisi, è lontano quando me lo chiedi, dimmi che ci credi. Più o meno come fa un piccione, più o meno come fa un piccione, è mica come le persone, che a causa di particolari, mandano per aria sogni e grandi amori. Più o meno come fa un piccione, l'amore è sopra il corvicione, ti starei vicino nei momenti di crisi, è lontano quando me lo chiedi, dimmi che ci credi. Ci sveglieremo la mattina, al teatro a pollo qui a Crotone. La prende! Grazie. Beh, attraverso la musica sicuramente faccio una scaletta di canzoni sociali, che non parlano naturalmente di donne, ci mancherebbe, però cerco di parlare al cuore, perché alla fine se si parla al cuore le più grandi rivoluzioni sono partite da dentro. Quando una rivoluzione parte da dentro, ed è quello che cercherò io di far capire attraverso la musica, attraverso le canzoni e anche delle dichiarazioni, perché in un teatro puoi fare anche delle dichiarazioni, ecco, se una rivoluzione parte da dentro può cambiare il mondo. Le altre rivoluzioni hanno insegnato che invece chi prende il potere dei cattivi che c'erano prima diventa più cattivo di quelli che c'erano prima. È dura, è dura, è dura, è dura, è dura, stringi la cintura, stringi la cintura. Vorrebbe incominciare dai bambini a far capire delle cose molto precise? Eh certo, devi cominciare per forza dai piccoli, poi devi cercare di insegnare attraverso la musica di proporre più che altro delle cose anche provocatorie, perché alla fine si può provocare, cioè negli anni 70-80 c'era una democrazia partecipativa diversa, la democrazia che c'è oggi è apatia, nessuno ha più voglia di fare niente, siamo tutti rimbambiti sui cellulari. Internet va usato in modo serio, nel senso io uso Facebook per mettere informazioni o per scrivere magari dei pensieri che possono aiutare, però devo riconoscere che se negli anni 70-80 c'era una democrazia partecipativa, come ti dicevo, adesso c'è grandissima apatia, Cioè siamo un po' tutti polli allevati, siamo sotto una dittatura culturale travestita da democrazia per polli allevati, quindi... Non puoi più dire niente, in effetti ci hanno un po' bloccato su tutto, devi essere allineato, Se dici qualcosa che va un po' fuori, per esempio se dici che sei populista, il populismo è negativo perché è privo di senso. Quelli che fanno il gioco dell'elite, della parrocchietta, del cortiletto in cui lavorano, dei compagni di merenda, quelli che vanno poi a mangiare la tagliata all'aceto balsamico al ristorante, quelli no, quelli vanno avanti. E' vero. Polli allevati. Beh, vedi. Super Popia ce la fa, ok? Vai! Super Popia ce la fa, Super Popia ce la fa, Super Popia ce la fa, perché ci crede in un mondo migliore. Super Popia ce la fa, Super Popia ce la fa, sì, anche Popia combina guai, però ci crede in un mondo migliore. La famiglia, bacio a fine di me! La famiglia, bacio a fine di me!